Di che cosa abbiamo bisogno per vivere al meglio il nostro tempo di silenzio? Non si tratta di fare qualcosa in più, ma di meno, anzi, si tratta di fare proprio niente. Facciamo già troppe cose durante le nostre giornate, siamo fin troppo affannati, ascoltiamo troppe persone, diciamo troppe parole, e magari alla sera, quando siamo già con la coperta sugli occhi, pronti per addormentarci, ci rendiamo conto che tutte le cose che abbiamo fatto, tutto il tempo che abbiamo vissuto, ci sembra inconsistente, ci sfugge dalle mani. Bastano 10 minuti di silenzio per dare una svolta alla giornata. Perché? Perché siamo talmente immersi nelle voci e nei rumori del mondo che non riusciamo più ad ascoltare la nostra voce. Prova a pensare alla tua routine quotidiana. Voci e rumori dalla mattina alla sera. Un martello pneumatico. Alla mattina la sveglia. Poi subito tua madre, tue fratelli, tua moglie, i tuoi figli. Esci di casa, tac, cuffiettine con la musica. Arrivi a scuola, al lavoro, parole, parole, parole. I professori, i colleghi, il capo. Torni a casa, telegiornale, televisione, videogiochi, i compiti, il lavoro, lo sport. Esci a fare l'aperitivo, vai a fare la spesa. Torni a casa per cucinare, mangi, guardi il televisore. Alla sera, tac, Netflix, Facebook, Instagram. E prima di andare a letto, l'ultimo sguardo al cellulare. Tutto il giorno immersi in una marea di suoni e di rumori. Bello, eh? Ma la tua voce? Che fine ha fatto la tua voce? Riesci a sentire la voce del tuo cuore? Delle tue emozioni? Che cosa sta dicendo la tua angoscia? Che cosa sta dicendo il tuo desiderio? Che cosa sta dicendo il tuo amore? Riesci a sentire la voce dei tuoi sentimenti? La voce della tua felicità? Della tua rabbia? La voce del tuo cuore? Se questa voce si perde in mezzo a tutte le altre voci, è un casino. Come puoi rimediare? Molto semplice. Dieci minuti di silenzio. Entri in camera tua, chiudi la porta, spegni il cellulare e lo metti lontano. Lontano dagli occhi, lontano dal cuore. E stai lì, fermo, per dieci minuti. A fare cosa? Silenzio. All'inizio sarà strano perché sarai assalito da mille pensieri dentro la tua testa, ma resisti. Ad un certo punto le tue mani fremeranno. Ti renderai conto che hai un corpo, che hai un respiro, che puoi sentire il ritmo del tuo cuore. E alla fine dei dieci minuti, se avrai resistito, troverai la cosa più importante. Te stesso. La tua unicità. La voce che parla dentro il tuo cuore. E potrai sentire che cosa dice. Sei arrivato nella stanza del silenzio, la stanza del tuo cuore. E lì trovi tutto quello che hai per essere unico. Tutto quello che ti manca per riuscire ad esserlo veramente. Lì trovi te stesso. A che cosa servono dieci minuti di silenzio in una giornata? Perché solo così hai la possibilità di mettere a tacere per un attimo tutte le voci che ti circondano e ascoltare la tua voce. E sentire se le altre voci, quello che senti, quello che gli altri ti dicono, quello che il mondo ti grida, è compatibile con la tua felicità. Se ascolti solo quello che ti dicono gli altri e le notizie sui telegiornali e quello che capita intorno a te, ma non ascolti te stesso, come puoi sapere quali voci sono compatibili con la tua felicità? Come puoi decidere se dar retta ad alcune voci o lasciarne perdere altre? Dieci minuti al giorno di silenzio ti permettono di vivere al meglio tutto il resto della giornata. Perché solo dopo aver ascoltato la voce del tuo cuore, puoi decidere come utilizzare al meglio il tuo tempo per la tua felicità. Ed evitare di disperderti in mille attività che non hanno niente a che fare con ciò che sei veramente, nel profondo del tuo cuore, nella verità di te. Pascal diceva, il dramma degli uomini è non trovare mezz'ora di silenzio al giorno.